Seguo le cripto da un po' di tempo e naturalmente utilizzo diversi exchange. Un po' di persone in privato sempre mi chiedono ma qual è il miglior exchange? Quali vai a utilizzare? Bene, in questo video cerco di riassumere i due exchange che utilizzo più spesso. Per me sono ottimi in quanto riescono a soddisfare determinate mie esigenze, però il concetto di migliore come migliore assoluto, io sono dell'idea che non possa mai esistere. Esiste quello che può essere più comodo al tuo caso. Quindi oggi andiamo a vedere Binance come exchange e Crypto.com. Io vi faccio un piccolo riassunto di quello che vado a utilizzare all'interno di queste due piattaforme e perché mi piacciono. Quindi questo video si baserà sempre sul secondo me. Secondo me io vado a utilizzare queste due piattaforme perché ho trovato degli spunti interessanti e soprattutto in questo video dico per quale motivo li sto utilizzando. Oltre a queste chiaramente utilizzo altre piattaforme collaterali, non so, per esempio Coinbase, Kraken, mi è capitato di utilizzare anche Bistampa, mi è capitato di utilizzarle, però non le vado ad utilizzare in maniera continuativa, solo magari per quelle determinate operazioni o per quei determinati token che non riesco a trovare su queste piattaforme. E anche nel caso dell'utilizzo della DeFi, quindi di tutti quegli exchange decentralizzati, anche lì vado a prendere in considerazione solo gli exchange che mi servono in un determinato momento. Al di fuori dei massimali, non so come possa essere, PancakeSwap o Uniswap che hanno uno storico ben definito, tutte le altre attività che faccio sul mondo della DeFi spesso sono solo attività spot e non troppo di lungo periodo. Però andiamo a vedere appunto perché vado ad utilizzare queste due piattaforme e iniziamo con Binance. Binance è presente sulla scena da diversi anni, assolutamente sì, e la cosa interessante è che insieme a Kraken, insieme a Coinbase, no, soprattutto Kraken perché tipo nel 2017 utilizzavo parecchio Kraken e Binance, li ho visti un po' crescere tutti e due insieme. Binance è quella che secondo me ha avuto degli sviluppi migliori per l'ecosistema che è riuscita a creare, tra propria chain e quant'altro. Poi ovvio, Kraken ha avuto degli ottimi sviluppi a livello di user experience, al contrario invece di Binance che è rimasta un po', mi viene a dire grezza, cioè nel senso più per gli addetti ai lavori. Andiamo a vedere appunto proprio questo. Quindi Binance, punto numero uno, pregio è che è un pezzo storico del mondo, cripto è presente da diverso tempo, ovvio questo non deve dare per forza la sicurezza del ah ok esiste da tanto quindi è una sicurezza. Può capitare un po' di tutto in questo mondo però, è qualcosa che contiene grande liquidità, naturalmente siccome è presente da diversi anni, ci sono tantissimi utenti che la utilizzano, a livello di sicurezza, intesa come sicurezza di natura digitale, diciamoci, è quasi sempre sotto attacco e quindi per superare questi attacchi chiaramente ha un lavoro dietro non da poco. E questo dà per appunto quella sicurezza in più. L'unica cosa è che è una piattaforma non semplicissima nell'utilizzo. esempio, a me è quello che capita spesso di fare il più delle volte, è prendere e inviare determinati token o coin sul portafoglio, quindi su quest'area qui del mio portafoglio, dove poi o metto in staking oppure le utilizzo per fare altre cose, tipo le porto sulla DeFi o quant'altro. Però la cosa che vado a utilizzare più spesso è l'attività di transizione da un token all'altro, quindi sulla, proprio, sì, dai, diciamo un termine errato, trading, nel senso che l'utilizzo proprio per fare lo scambio, quindi l'attività di exchange in sé. Come si può vedere non è semplicissimo a primo impatto, tale visione, però è molto molto funzionale. Io utilizzo la struttura classica perché è quella con la quale sono cresciuto ed è quella che un po' viene riportata su tutti i vari exchange. Da quest'area uno può andare a ricercare le coin di proprio interesse, non so, tipo seller, perché no? Seller in rapporto a boost, tra l'altro oggi sto registrando le crypto hanno ricevuto un buono storno durante la notte, in quanto c'è una media tra il meno 8 e il meno 20% un po' su tutte le crypto, quindi potenzialmente oggi è un po' giornata di sconti, anche se il peggio me lo devo, cioè me lo sto ancora aspettando. Si andrà ancora più in basso? Sì. Però, come si può vedere, non so, tipo qualcuno ha a disponere dei boost, qua può andare a mettere il proprio ordine o limite inserendo la quantità di boost che vuole mettere a mercato per fare la transazione, oppure direttamente fare l'acquisto a mercato. Quindi con il limite uno applica un ordine pendente, in questo caso di acquisto o di vendita, a seconda. Io tipo qua in portafoglio ho 17.000 seller, il che significa che posso andare a fare un ordine di vendita pendente, per esempio mettendo qua al 50% mi va a inserire la metà dei seller che ho disponibili, quindi 8.576 per un controvalore di 179.000 a questo prezzo qua. Poi naturalmente, siccome il prezzo di vendita sta a significare che va a scendere, chiaramente può andare a variare questo valore di vendita, quindi quello che mi rientra. Se invece voglio fare a mercato, automaticamente vado a inserire quanto voglio lasciare in questo momento, quindi eseguito al prezzo di mercato, e mi viene confermato il prezzo. Questo qua è, come una persona può vedere, soprattutto novizio, non è una cosa così semplice e immediata nell'utilizzo, però è molto molto funzionale. Dal mio punto di vista, Binance, oltre ad essere storico, ok, non è semplicissimo, quindi questo qua potrebbe rientrare nei contro. La cosa che vedo molto interessante è che ha delle commissioni molto basse a livello di transazioni, in quanto spesso va ad utilizzare delle proprie chain, quali possono essere per appunto BEP20 o BEP2, quindi protocollo di Binance Chain o Binance Smart Chain, che è una side chain che si interfaccia con quella di Ethereum, o meglio con quella dell'RC20, non tanto di Ethereum, e grazie a questo si riesce ad abbattere abbastanza bene la parte di commissioni. Infatti anche per transare tra BEP20 e BEP20, come wallet, spesso, su Boost o su BNB, quando vengono transati, paghi zero di commissioni, oppure porto 10 centesimi, 20 centesimi, una cosa che con la rete Ethereum invece si paga un po' di più, anche con lo stesso Bitcoin. L'altra cosa che trovo interessante è la sua completezza, cioè nel senso sono stati inseriti gli NFT da poco, ma soprattutto nella sezione finance, escludendo la parte dei derivati, perché tipo in Europa, o meglio in Italia, è entrata sotto analisi e ban, soft ban da parte della Consob, in quanto sono strumenti derivati su beni, non di natura finanziaria, però su beni, su asset molto molto volatili, e quindi pericolosi, hanno preferito di limitarli, giustamente, perché in questi casi le persone si possono fare molto molto male, al contrario la sezione finance è molto completa, rispetto a tantissimi altri ecosistemi, Binance dà la possibilità di lavorare con le classiche attività di staking, o dando liquidità, partecipando alle launch pool, a liquidità di DeFi, per mettere in, passiamo il termine, mettere in un salvadanaio virtuale, in attesa determinati coin, determinati token, queste danno la liquidità a terze parti, oppure vengono utilizzate per validare transazioni, utilizzando il concetto di proof of stake, e chi dà questa disponibilità, viene ripagato con delle commissioni, che rientrano sotto la voce APY. Questo è quello che succede su Binance, e chiaramente ora non mi metto a fare tutta la carrellata di ogni singolo argomento, anche perché ho fatto un paio di video proprio specifici di Binance, sulle launch pool, ma anche sull'ecosistema di DeFi, e nell'utilizzo del soft staking. Puoi vedere qua all'interno del canale di Investiro, e nel caso approfondire. Questo vuole essere più un video di panoramica. Quindi riassumendo, Binance mi piace perché? Uno, è un prezzo storico del mondo cripto, due, ha delle commissioni molto molto basse, tre, è completo come ecosistema, si può vedere appunto che ci sono veramente un'infinità di strumenti che possono essere utilizzati, il contro è che non è semplicissimo. Non è semplicissimo per un novizio, per una persona nuova, anche l'applicativo sul cellulare è un po' incartato, bisogna sapere un attimo dove muoversi, però ovvio, basta un po' di tempo di studio, ma soprattutto buona volontà, e arriverai a comprendere come utilizzare anche al meglio Binance. L'altro sistema che utilizzo è Crypto.com. Crypto.com invece è qualcosa di molto nuovo, nel senso che io l'ho iniziato a utilizzare poco più di un anno fa, perché era tipo fine maggio, metà maggio, fine maggio, è il periodo in cui mi sono interfacciato a questa piattaforma. Se guardi sul canale avrai visto tanti video nel quale utilizzo l'applicativo da cellulare. Oggi vediamo la parte da PC, che è l'exchange vero e proprio. Ricordiamo una cosa, l'app da cellulare e l'exchange da PC, è vero, fanno parte tutte e due di Crypto.com, però sono da vedere come due piattaforme diverse. Quindi quando uno creerà l'utente sull'applicazione, sull'app, avrà la possibilità di interfacciarsi con il conto dell'exchange, però non avrà lo stesso saldo, sono due saldi differenti, uno per l'app e l'altro per l'exchange. Infatti poi se uno va a vedere sull'app, si ritrova con una cifra diversa sotto la voce exchange. Poi, ovvio, la transazione tra wallet dell'exchange e wallet dell'app è facilitata in quanto fanno parte dello stesso ecosistema, però ripeto nuovamente che sono, cioè devono essere trattate come due piattaforme diverse. Crypto.com invece, a livello di struttura, per l'appunto è molto molto giovane. Quindi questa parte di gioventù può essere sia un pro che un contro, come pro significa che ci possono essere degli ottimi sviluppi, quindi si può attendere un'ottima crescita, come contro probabilmente ci sono dei bug che devono essere ancora affrontati. Infatti normalmente durante le fasi di aggiornamento ogni tanto ti ritrovi, non so, la pagina 404 sul computer, oppure sul telefono ti richiede di fare un aggiornamento, però ti dice servizio al momento non disponibile, capitano queste cose, però sa significare che ci stanno lavorando sopra. In quel caso uno non è che si deve spaventare, oddio dove sono andati, no. Alla fine è una struttura di base americana con una sede anche in Inghilterra e stanno cercando di strutturarsi nel migliore dei modi anche per far fronte a possibili e future regolamentazioni. Al contrario invece Binance che ogni tanto è un po' oscura sotto questo aspetto. Come dicevo, questa notte c'è stato un bel crollo violento, come si può vedere, delle percentuali di storno non da poco e questa cosa, vabbè, siamo in periodo di saldi, però il peggio dovrà ancora arrivare. Quindi piattaforma nuova su base US che sta attenta appunto alle regolamentazioni e questo poi sarà insomma un pro, lo vedremo anche tra un po', la problematica più grossa è la parte di commissioni in quanto loro come struttura, Crypto.com ha cercato di fare un design un po' più semplice, più pulito per poter utilizzare appunto la propria interfaccia grafica. È abbastanza simile a quello che si vede su altri exchange. La cosa interessante è che dall'applicativo web, quindi dall'exchange, ci si ritrova con le stesse voci che sono presenti anche negli altri exchange. Se andiamo a vedere anche su Binance è abbastanza simile la struttura, chiaramente. Quindi non dista più di tanto, uno deve masticare, deve iniziare a fare un po' di pratica con questi strumenti, con queste azioni. Al contrario invece da mobile è nettamente più semplice. Però ricordiamo, l'applicazione da mobile è diversa dall'applicativo web. Cosa che invece Binance da mobile è molto molto incartato. L'altra cosa interessante è che essendo giovane come piattaforma stanno iniziando a portare dentro nuovi progetti. Progetti di DeFi con il DeFi Wallet, progetti anche che hanno a che fare con la parte di Stake, Assign Decay e quant'altro, il Supercharger, che sono tutti dei servizi collaterali meno elaborati rispetto a quelli presenti su Binance. Quindi c'è un limite di scelta sia a livello di token che a livello di tempo. Però sono molto molto più semplici da comprendere e da utilizzare rispetto a quelli di Binance. quindi questo qua lo trovo come un pro. Ricapitolando, quindi Crypto.com pro giovane, quindi possibilità di crescita non da poco. Base US e UK che sta a significare che cercano di avere una maggiore trasparenza rispetto a quello che fanno sul loro interno. Sì, hanno una user experience più semplice e pulita, come contro però le commissioni sono più alte. Quindi questa è una cosa che ho notato su diversi servizi. Quando trovi una user experience bella, semplice per l'utente, bene, dall'altra parte ritroverai delle commissioni o dei costi un po' più alti per l'utilizzo. La vedo giusta come cosa. Poi uno dice, no, ma quanto costa? Ti semplificano la vita, paghi questa semplificazione giustamente. Quindi non fare il barbone e spendi quei pochi centesimi in più ad ogni singola transazione che sono ripagati per la comodità che ti viene data. Ora, giusto una comprensione di tutto quello che mi aspetto da questo mondo, dal mondo exchange e dal parallelismo tra crypto.com e Binance, quello che mi aspetto nel corso del 2021 e nel corso del 2022 è comunque un maggiore aumento di regolamentazioni, di controlli da parte dei vari stati. Già qualcosa è iniziato, con l'inizio di quest'anno abbiamo visto il caso di Tether, abbiamo visto il caso di Ripple, Binance stesso in Italia, limitazione dei depositi in valuta fiat con bonifiche e quant'altro su alcune piattaforme. Ci sono, ci sono queste regolamentazioni, è giusto, secondo me che ci siano, saranno quelle che poi andranno a creare un'incertezza di mercato sull'area crypto, alcune persone si spaventeranno, lasceranno il capitale, e quindi per quello che dico che sul mercato crypto mi aspetto ancora il peggio, quindi ulteriore storno, però tutta questa serie di regolamentazioni darà quella spinta in più, dopo un momento di down, per avere una crescita costante e un andamento sano per il futuro del mondo delle crypto. Non sarà chiaramente una cosa che succederà da oggi a domani, anzi, anzi, nel corso di questi due anni, forse anche tre, ci saranno diverse battaglie tra finanza un po' vecchia, sì, finanza vecchia e nuova finanza determinata dalla parte di crypto, però gli enti finanziari e le banche hanno compreso che tutto il mondo crypto non potrà essere fermato, e quindi secondo me loro si stanno alleando, stanno prendendo sotto braccio determinate tecnologie e le stanno portando per sviluppare dei loro servizi da vendere a terzi clienti. Ci sta, cioè alla fine andranno a si andranno a muovere in questo modo, questo è quello che mi attendo. Tu cosa ti aspetti dal mondo crypto? Fatto questa panoramica, dimmi quale exchange vai a utilizzare, magari me lo scrivi qua sotto nei commenti, così che c'è un piccolo scambio di battute, dimmi anche il perché stai utilizzando quel determinato exchange, non so, tipo, sto utilizzando Coinbase perché mi dà la sezione earn, in effetti in questi casi su questi due exchange non mi pare che ci sia la sezione earn, al contrario invece su Coinbase ogni tanto ci vado e vedo che mi si sblocca un'area dove ok, posso rispondere a delle domande e mi danno dei coin solo perché rispondo alle domande di formazioni della piattaforma stessa. È carina come cosa? Assolutamente. È comodo per una persona che inizia? Sì, perché capisce cosa è il mondo crypto e guadagna qualcosina imparando. Quindi scrivimi qua nei commenti che piattaforma vai a utilizzare e se già stai utilizzando da diverso tempo il mercato crypto, come te lo aspetti nei prossimi anni? In questo caso, queste comunicazioni noi le facciamo all'interno della community di Invest Hero in quanto si riesce un po' a chiacchierare maggiormente nel dettaglio. Trovi il link qui sotto nella descrizione di questo video. La community è gratuita e ci vediamo lì dentro. Ciao ciao!